Natale, alla libreria Imagines Book Ex Guida, conviene sconto del 15% su tutti i best sellers e libri per ragazzi, con tutte le novità di Violetta e Peppa Pig, tablet e giochi educativi per bambini. Un vastissimo assortimento di libri per tutti i gusti e per tutte le età e per completare i tuoi acquisti, tanti gadget e agende. Ti aspettiamo a Salerno, in corso Garibaldi 142, a dicembre siamo aperti anche la domenica.